Oggi in Senato presentiamo appunto il Centro Studi per il Patrimonio Culturale e Materiale. L'Italia è il paese dei mille tesori nascosti e quindi serve proprio un piano anche nazionale proprio per salvaguardare questi tesori, censirli e portarli a conoscenza chiaramente del paese a livello nazionale e internazionale. Oggi le Proloco presentano proprio tutto questo. Credo che sia una di quelle associazioni che sono fondamentali perché sono presenti nel territorio con più di 6.000 associazioni e vorrei dire qualche milione di volontari e chi meglio di loro può censire e portarci a conoscenza di tutto questo.